Preghiera per l'incontro mondiale delle famiglie. O Dio e Padre di tutti noi, in Gesù, tuo Figlio è nostro Salvatore. Tu ci hai fatti i tuoi figli e tue figlie nella famiglia della Chiesa. Fa che la tua grazia e il tuo amore aiutino le nostre famiglie, sparse per il mondo, ad essere unite tra di loro in fedeltà al Vangelo. Possa, all'esempio della Sacra Famiglia, con l'aiuto del tuo Santo Spirito, guidare tutte le famiglie, specialmente le più tribolate, perché siano focolari di comunione e di preghiera, perché sempre cerchino la verità e vivano nel tuo amore. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Gesù, Maria e Giuseppe, pregate per noi. Grazie a tutti.